Noi irlandesi siamo stati vicini di casa degli inglesi per così tanto tempo che possiamo dire di conoscere bene la loro follia. L'Europa è come un labirinto, quando ci entri non sai mai come uscirne. Può sembrare strano, ma qui in Svezia l'europeismo è in crescita e questo anche per via della Brexit. Per noi polacchi è il fattore sicurezza che conta. È certo che un'eventuale separazione della Catalogna dalla Spagna può scatenare un effetto domino all'interno dell'Unione. L'Europa che verrà di Amedeo Ricucci, speciale TG1, domenica a mezzanotte Rai 1.